Trionfo storico, Imane Khelif vince l'oro nel pugilato alle Olimpiadi, vittoria schiacciante contro la cinese Yang. Imane Khelif ha scritto la storia conquistando la medaglia d'oro nel pugilato femminile, categoria meno di 66 kg, alle Olimpiadi di Parigi 2024. Con una vittoria per decisione unanime, ha dominato la finale contro la cinese Yang Liu, regalando all'Algeria un successo senza precedenti. Prima di entrare nei dettagli di questa straordinaria impresa, ti invito a iscriverti al canale e a condividere questo video con i tuoi amici. Resta aggiornato su tutte le emozionanti storie e vittorie olimpiche. Grazie per il supporto. Imane Khelif ha messo in scena una prestazione impeccabile, affondando colpi decisivi fin dall'inizio del match. La cinese Yang Liu, pur determinata, non è mai riuscita a prendere il controllo dell'incontro, restando in balia della pugile algerina. I verdetti delle tre riprese 5-0 hanno confermato il totale dominio di Khelif, che ha così conquistato un oro meritatissimo. Il percorso verso la vittoria di Khelif non è stato privo di ostacoli. La pugile algerina ha dovuto affrontare non solo avversarie sul ring, ma anche un carico di polemiche e attacchi mediatici legati alla sua identità sessuale. Nonostante le provocazioni e le tensioni, Khelif ha mantenuto la concentrazione e ha risposto con i fatti, dimostrando la sua superiorità tecnica e mentale. Dopo una serie di vittorie convincenti contro avversarie come l'ungherese Luca Amori e la tailandese Jan Jem Suwana Feng, Khelif è arrivata alla finale con una fiducia incrollabile. E nella sfida decisiva contro Yang Liu ha dato il meglio di sé, sigillando una vittoria storica per il suo paese. Al termine del match, il nome di Imane Khelif ha risuonato nel palazzetto, tra le urla di gioia dei tifosi algerini. La neocampionessa, visibilmente emozionata, ha festeggiato sventolando la bandiera dell'Algeria e saltando sulle spalle del suo allenatore. È stato un momento di pura euforia, la ciliegina sulla torta di un percorso olimpico durissimo ma trionfale. Non perdere altre storie straordinarie come questa. Iscriviti al canale e condividi il video per celebrare insieme le imprese dei nostri atleti. Iscriviti al canale